L'Associazione Culturale di Promozione Sociale Meridiani chiama a raccolta tutte le scuole di primo e secondo grado della campagna per riflettere sul tema della sicurezza stradale. Giunto ormai alla sua sesta edizione, il road show, sì, saggio, guida sicuro infatti, fino ad aprile coinvolgerà gli studenti di tutte le scuole campane in tappe formative, con esperti delle forze dell'ordine e dell'Università Federico II di Napoli. La nuova edizione della campagna, che ha lo scopo di coinvolgere i giovani e spiegare loro l'importanza della sicurezza stradale, è stata lanciata questa mattina nel corso del convegno dal titolo Progetti e azioni per migliorare la sicurezza stradale, organizzato dall'Associazione Meridiani in collaborazione con l'Università Federico II e l'Associazione Scientifica Infrastrutture e Trasporto. Ai lavori hanno partecipato tra gli altri Guido Petrosino, responsabile dei rapporti con i ministeri e gli enti territoriali di ANAS. Diana sta investendo molte risorse su questo tema, a partire quindi dalla manutenzione, perché la manutenzione delle strade significa principalmente sicurezza, strade ben tenute sono strade più sicure, quindi miglioramento della trasportabilità e riduzione dei rischi. Presente all'incontro Agostino Pedone, presidente in orario dell'Associazione Meridiani. Rientra in una serie di progetti e di iniziative che hanno proprio come scopo inculcare la necessità, specialmente nei giovani di età scolare, scuole medie inferiori e superiori, il tema della sicurezza stradale. Purtroppo ci sono anche dei piccoli contrattempi che bisogna combattere anche con un umidizzare la velocità purtroppo che si vedono nei film e nelle cose, e che affascinano moltissimo i giovani, i giovani di per sé hanno una mentalità molto dinamica e sono affascinati.